Ecco che partono subito, trattano la vasca di fango, si lanciano praticamente sui pali, inizia la scalata e come hai detto tu la fortuna è fondamentale, riuscire a trovare immediatamente il totem. Ecco, Edoardo Stop è il primo ad aver recuperato un totem, così seguito da Samuel e anche da Rasta. Adesso la vasca, mi raccomando, dovete ripercorrere la vasca di fango. Proverà. Io mi avvicino per vedere, no, non è, no, Samuel! No, vabbè. Samuel è riuscito, è lo stesso a dire il vero anche Aras, però è arrivato dopo, è arrivato più tardi. Ele Noir, ma posso dire? Quando si dice la fortuna. Esatto, ma tra l'altro Samuel era quello che aveva cinque totem, quindi quello che aveva meno possibilità. Esatto. Sarà dimagrito, ma c'ha un lato bipazzesco, eh. E lui è il primo superfinalista, Samuel Peron! Complimenti, Samuel, complimenti! E lui è il primo superfinalista, Samuel Peron! E lui è il primo superfinalista, Samuel Peron!